Come preannunciato una settimana fa dal nostro, Tg l'ondata di bollette pazze del gas si è abbattuta anche su Foligno, dove in queste mattine è tornata la fila davanti agli sportelli della sede di Viale 4 Novembre. Cartelle che gli utenti in fila sotto al sole hanno mostrato stamattina alla nostra telecamera per importi da 300, 400, 500 fino a oltre 1000 euro. In coda c'era anche chi si chiedeva se si potesse trattare di un errore. Un caos che si è generato nonostante le rassicurazioni dell'azienda Vuscom che nei giorni scorsi aveva preannunciato di poter rateizzare gli importi fino a 6 tranche, prevedendo per il futuro un sistema di fatturazione errata costante, evitando impennate di conguagli da capogiro. Ma oggi le proteste si fanno sentire sia con le lunghe file, che per molti significano ferie o permessi dal lavoro, che dai social network dove un utente segnala la fatturazione da 84 metri cubi nonostante esegua da anni autoletture irregolari che testimoniano un consumo ben inferiore pari a 50 metri cubi. Un errore che potrebbe restare caso isolato, ma che invitiamo invece a segnalare qualora sia ripetuto. Sempre dal web una dipendente Vus racconta di un vecchietto di 85 anni che le corre incontro piangendo e chiedendo il suo aiuto. Noi operai, spiega la donna sul caso, non possiamo fare miracoli se non indirizzare queste persone nei giusti uffici di competenza, dove gli diranno di rateizzare l'importo, 874 euro, in 6 rate, con una pensione minima. Non si potrebbero evitare queste sorprese, conclude la dipendente, procedendo alla lettura dei contatori con regolarità, si può intervenire in merito? E sul caso dice la sua anche il consigliere d'opposizione Stefania Filipponi, impegno civile, che ha inviato ieri un fax al presidente Vus, definendo auspicabile che si eviti di fatturare i cosiddetti consumi presunti provvedendo con regolarità alla lettura dei contatori. Una richiesta impossibile, visto che l'autority nazionale non prevede la regolare lettura da parte delle aziende e demanda agli utenti l'autolettura regolare. In merito alla dicitura non rateizzabile riportata sulle bollette, va detto che si tratta di una norma stabilita dall'autority stessa che renderebbe non dilazionabili gli importi al di sotto di certe cifre. Una norma cui Vuscom ha deciso di derogare, concedendo a tutti di poter rateizzare gli importi. Fra le richieste del consigliere d'impegno civile, quella in presenza di particolari e comprovate condizioni economiche, di spalmare gli importi addirittura in più annualità. Per il futuro l'autorettura resta l'unico modo per proteggersi da queste bollette pazze.